Dopo le prime due regioni si pensa di allargare questa intesa anche ad altri? Il problema è che noi dobbiamo costruire altre intese per altre situazioni di crisi in quelle che abbiamo definito le aree di crisi industriale complessa. Ricordo che a novembre abbiamo firmato un protocollo di intesa per il Sulcis molto importante che stiamo attuando e che ha dato vita al Piano Sulcis. Abbiamo firmato un accordo di programma con la regione Puglia per l'area di Taranto. Dobbiamo muoverci adesso su altre aree di crisi per esempio Piombino, per esempio Trieste su cui stiamo costruendo analoghe intese. Questo per la Puglia può rappresentare un nuovo volano di sviluppo anche questa intesa specifica? Assolutamente sì, è l'obiettivo che l'intesa ha e che si inserisce in una realtà regionale che sta cercando di aprire prospettive all'industria pugliese che poi hanno risvolti importanti per l'industria nazionale.